. Atletica, Diamond League, Birmingham, Barsimvula, Mo Farah non sbaglia. Ultima fermata per la corrente Diamond League, prima delle finali in programma, come di consueto, tra Zurigo e Bruxelles. A Birmingham, tappa post-mondiale, condizione in ribasso, ma risultati comunque da sottolineare. Miglior performance per Mutazes a Barsimv. Il dominatore dell'alto, Oro a Londra, supera i 2.40 e annuncia, per la prossima stagione, l'attacco al primato. . Barsimvula rischia 2.31, si salva alla terza prova, poi cambia marcia. A 2.39, due errori, asticella un centimetri più su, capolavoro. . Gazzal, secondo, si ferma a 2.31, 2.20 per Tamberi, la stanchezza presenta il conto. . Mo Farah non tradisce nei 3.000. Concorrenza agguerrita, ma di livello medio, il britannico può attendere il suo terreno preferito per lanciare l'offensiva. . Chiude in 56 secondi l'ultimo giro, esulta già sulla retta d'arrivo, 73.864, Meshalechi plandata alle sue spalle. Una delle deluse della spedizione iridata, Elaina Thompson, coglie pronto riscatto nella velocità. . . Problemi fisici alle spalle, almeno parzialmente, la giamaicana sfreccia in batteria ed argina la tallu nella finale dei 100, 1093. Quattro centesimi il margine sull'Ivoriana. . . Guliyev si conferma nei 200, con un buon finale contiene Webb, mentre si spegne Makvà, esausto. 2017 per il turco. . Amos, battuto al Mondiale, conduce corsa d'attacco negli 800, la coppia polacca, Zot, Lewandowski, non ricuce e deve accontentarsi della seconda e della terza piazza. . Merit, 1329, si aggiudica i 110 HS, secondo Keshubankov, terzo Allen. La Felix, nei 400, non trova la giusta brillantezza, deve quindi al tramonto alzare bandiera bianca al cospetto della NASA, non più una sorpresa. . 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 Stefanidi, 4.75, a Salto Vano, poi, ai 4.88. Infine, lungo Alavson. 8.19, Samai, giornata negativa, non va oltre un 803.